Ero stato fermo due settimane Mani però così al lungo, no? No, perché questo, diciamo, a 30 anni mi è capitato il primo infortunio che mi ho dovuto tenere fermo quasi due mesi, non mi era mai successo. Poi il problema che avevo la caviglia, c'era un edema che mi dava fastidio e comunque tutt'ora c'è ancora un po' di fastidio e me lo porterò avanti per un po', non è una cosa semplice. Poi c'erano i giorni che mi sentivo bene, rientravo però mi faceva male e quindi abbiamo fatto le cose con un po' più di calma per essere poi al 100%. Hai diventato un cerchio al tuo nuovo, no? Sì. Cosa ti ricordi quella partita? Sei rimasto da dentro qualcosa di ripianti? In quella partita per il Demuna 0, diciamo che era stata la prima partita con le big in cui abbiamo, diciamo, ci siamo portati fino alla fine la possibilità anche di pareggiare. Non c'è stato questo grassissimo divario. Però comunque sappiamo che la Roma è una squadra tosta, che in questo momento magari non sta passando un bel periodo perché arriva da tre sconfitte in fila, diciamo che è l'opposto nostro, perché noi abbiamo fatto tre vittorie, loro tre sconfitte. Però questo per noi è già un campanello d'allarme, perché magari vedono le lecce e dicono adesso possiamo riprenderci, però per noi non sarà così. Sappiamo che dobbiamo affrontare una partita di personalità, di carattere e cercare di pressarli dall'inizio alla fine. La gratificazione del prolungamento del contratto in un momento come questo è importante, no? Io ancora ci sono quasi, nel senso io le dinamiche non ci sto pensando, perché quando mi chiamerà il mio procuratore, mi dirà che hanno fatto tutto, allora firmerò, io adesso non mi sto preoccupando di dare un nuovo. Però non è una gratificazione? Sì, con la sicuramente, fa sicuramente piacere, perché vuol dire che qualcosa di buona stai lasciando. Se tu hai detto che la situazione della Roma vuol costituire un campanello d'allarme, ecco, affrontarla è meglio in quella condizione in cui sta, con gli altri a pezzi, o avresti voluto affrontarla in un momento di maggiore positività della squadra? No, io penso che sia uguale, perché comunque sappiamo che la Roma è una squadra forte, dove c'è un tasso tecnico elevato, loro comunque lotteranno per cercare di stare agganciati all'Atalanta, noi sappiamo tutti i problemi che potremmo trovare, infatti ci stiamo preparando per questo. Magari loro possono avere un po' più di pressioni, però sono giocatori talmente di livello alto che sicuramente non avranno problemi a queste pressioni. Marco, nel periodo della tua assenza, mi torna adesso in mente l'ultima intervista nella quale celebrasti e esaltasti le qualità di Vera, no? Sì. Nella quale ti preso, è stato ancora sacrificato perché ovviamente c'era gente più pronta e non ha di seri cavalli, poi mi dirai, in maniera legge, in Vera continuare ovviamente a riporre grande fiducia? Sì, sì, ovviamente, forse penso che sia stato anche un periodo non facile anche a livello di risultati, quindi magari il Mistra ha fatto le sue scelte, però comunque Vera ha delle qualità straordinarie, perché comunque a vent'anni ha un fisico pazzesco, lavora tanto e secondo me se ne parlerà. I nuovi che invece ci andiamo a fare? Scusate, Donati di Davao? Io Donati lo conoscevo già dai tempi di Grosseto, comunque ha fatto una carriera importante all'estero, io l'ho ritrovato molto cresciuto, migliorato tantissimo, è un giocatore molto affidabile, comunque giocare sulla fascia opposta del tuo ruolo non è semplice, ma lui ha fatto delle grandissime prestazioni. I nuovi che presenti hanno fatto? I nuovi, allora, diciamo, io giocando l'ultimo con Barak mi sono trovato molto bene, oltre che essere un giocatore, per me, stratosferico, nel senso che ha tutto, ha visione di gioco, c'ha forza, c'ha personalità, oltre a quello è anche un ragazzo che si è inserito subito, è una cosa che mi piace di lui, che quando arriva dà la mano a tutti, qualsiasi persona che incontra, è il suo modo di salutare, questo già ti fa capire che persona è. Poi Ricky, anche Ricky ha delle qualità altissime, i giocatori che sono arrivati con comunque hanno alzato il tasso tecnico, anche la fisicità, e quindi riusciamo anche ad avere ritmi più alti durante gli allenamenti. Se ti comporta in questo momento il fatto che nella lotta a salvezza siano state risultate anche squadre che fino a un mese fa si pensava che potessero invece fare un altro campionato? Sì, diciamo che con i nostri risultati abbiamo portato dentro un po' di squadre, questo sicuramente è una cosa positiva, perché comunque la lotta si estende a più squadre. Però io penso che noi dobbiamo pensare al nostro obiettivo, però pensando a Lecce basta, e quindi bisogna dare continuità ai risultati fatti fino adesso, perché anche un punto può fare la differenza, un punto o tre punti, però bisogna dare continuità. Tornando alla Roma, è l'attacco, il suo giorno ha detto che Zegolo è uno dei più attaccanti più insidiosi della Serie A, secondo te quale altro giocatore della Roma potrebbe fare differenza in questa partita, ha fatto anche gli inerti per loro. Sì, ma come ha detto Fabio, sicuramente il loro giocatore più rappresentativo è Zecco, però comunque anche loro hanno degli esterni brevilini, bravi tecnicamente, molto forti, io penso che tutta la loro squadra bisogna stare attenti. La Roma è la prima partita di un miniciclo di foco, possiamo dire, però dai risultati delle ultime partite, ad esempio il pareggio con l'Inter e la vittoria in Napoli, questo Lecce sta dimostrando che deve fare una differenza anche con la loro del Bic. Sì, diciamo che noi ci abbiamo rispetto di tutte le squadre, non dobbiamo partire con la paura, perché noi sappiamo quello che possiamo dare, abbiamo anche visto che con le squadre, con le Bic abbiamo comunque portato a casa qualche risultato, sicuramente non era inaspettato, sappiamo che adesso abbiamo 4-5 partite veramente difficili, quindi però noi dobbiamo pensare adesso alla Roma e a uscire dall'Olimpico con qualche punto. Anticamente a te che cosa cambia invece dal nuovo sistema d'attivi liberali, dal 4-3-1-2 a 4-3-2-1, per te cambia qualcosa? No, per me non cambia, nel senso lui chiede sempre di spingere e comunque anche di fermare, alla fine come modulo cambia poco per l'esterno. Hai realizzato i tre gol o più per poter entrare a contenirla? In queste quattro partite contro altre tante, grandi, sogni di prendere quelle abitudini? Sì, quello lì uno ci spera sempre, comunque fare gol fa sempre piacere, però anche se non arriva magari lo faccio fare a qualcun altro, va bene lo stesso. Grazie a tutti.